Siglato l'accordo di programma per la prosecuzione a Sansevero del corso di laurea in scienze infermieristiche, sottoscritto dal sindaco Francesco Miglio e dal rettore dell'Università degli Studi di Foggia, Maurizio Ricci, Sansevero è l'unica città incapitanata ad avere un corso universitario oltre al polo del capoluogo Dauno. L'amministrazione comunale ha puntato da tempo sul mantenimento di scienze infermieristiche, del corso di laurea in scienze infermieristiche. Tra tante cose che vanno via dalla nostra città ci tenevamo a profondere il massimo sforzo, anche economico, per far sì che questa realtà continuasse ad esistere nella città di Sansevero. È un'opportunità innanzitutto per i nostri ragazzi, per i nostri giovani che si vogliono avviare alle professioni sanitarie, l'opportunità di farlo nella propria città credo che sia un'opportunità che noi avevamo l'obbligo morale e politico di garantire loro. Credo che si harà anche una importante valorizzazione del nostro nosocomio, della nostra struttura sanitaria, perché potrà arricchirsi della presenza di docenti universitari di alto profilo scientifico, quindi anche la possibilità di offrire all'utenza una offerta sanitaria all'altezza delle aspirazioni della nostra cittadinanza. Io credo che nel momento in cui si investe in cultura, nel momento in cui si investe sui giovani, chi pensa che sia una scelta sbagliata probabilmente fa un'analisi retrospettiva della realtà. Invece noi dobbiamo guardare avanti e puntare sui nostri ragazzi. e credo che scienze infermieristiche, unitamente a tante altre iniziative culturali pregevoli di alto profilo scientifico, debbano essere favorite ed ostacolate. Con questo accordo firmato oggi garantiamo la presenza del corso di laurea di scienze infermieristiche nel comune di San Severo. Questo è l'ultimo e unico corso di laurea decentrato nella provincia di Foggia. E noi stiamo facendo un notevole sforzo come Università di Foggia per il mantenimento. Siano certi che si risolveranno anche alcuni problemi di carattere logistico che ci sono attualmente e andremo in direzione di un fecondo superamento. E questo conferma anche l'importanza della collaborazione fra l'Università e il comune di San Severo e l'importanza che l'Università possa raccordarsi sempre con gli enti locali a servizio della collettività e al fine di fornire una formazione di qualità a favore degli studenti iscritti al corso di laurea.